Ok, entro dal punto A e arrivo fino al punto B Dritto con la schiera Sì, sì, ma pure tutta sta fascia deve essere eliminata Guarda qua quanto peso Questo è un mestiere dove non si smette mai di imparare Questa è la cosa fondamentale E nel momento in cui credi di essere arrivato È il momento in cui sei finito, secondo me È partito tutto per caso, per gioco È partito dal mio compagno di banco Nel senso che non aveva l'abitudine di tagliare i capelli Per gioco un giorno gli dissi Guarda, non è il caso che tu vada a girarmi in questa maniera E oggi vengo a casa tua e ti faccio i capelli Ed è realmente successa come cosa E inizio a tagliare i capelli Ci metto un po' Però ti dico che già dal primo momento ho capito Che era quella la mia strada Perché mi sono proprio divertito La mattina studiavo Cioè nel senso andavo a scuola E il pomeriggio andavo a tagliare i capelli Poi ho finito Cioè è durato per gli ultimi due anni di superiori E erano già due anni che tagliavo i capelli Però ovviamente senza una base Senza un'istruzione Perché purtroppo non ho mai avuto la possibilità Ma con tanta passione e voglia di fare Mi sono appassionato sempre di più in questi due anni Ho deciso di andare a studiare a Roma Dove ho studiato per tre anni L'accademia Ho preso i vari attestati Per un'attività Per lavorare E ho fatto molti corsi di formazione Dopo aver fatto tutto questo Ho deciso giustamente di tornare a casa Ed è lì che ho detto Perché rinunciare a casa mia E andare ad essere un numero Da un'altra parte Quando poi a casa mia Vanno via tutti Il paese va piano piano A morire Ci sono molte menti Di ragazzi del Cilento Che stanno facendo molta fortuna fuori Ed è un peccato Arricchire zone magari già ricche Anche di sapere di cose nuove Attività e tutto quant'altro E poi ad andare ad impoverire Il nostro Cilento Perché è bellissimo È solo che è stato Abbandonato un pochino Per via di molte cose Però spero che Ci siano sempre più persone Che magari tornino qui A portare magari le conoscenze Che hanno appreso fuori Secondo me perché non c'è La voglia di rischiare Perché Dappertutto Compreso il Cilento e casa nostra Cioè ci sono molte persone intelligenti Che capiscono determinati mondi Solo che Chi ha voglia di creare qualcosa di nuovo Magari si fa frenare Da quella piccola parte di persone Che ti dicono Ma chi te lo fa fare Ma perché fai questo Non funzionerà E si lasciano Limitare Ed è una cosa che Non esiste per me Cioè nel senso Io non ho Non ho limiti Fino a quando Posso sacrificarmi Studiare Imparare E fare qualsiasi cosa Io cerco di farla Quindi ho deciso Grazie all'aiuto Della mia famiglia Di creare La mia piccola realtà Dove poter essere Il Il punto di riferimento Ok E Dove Poter mettere in atto Tutte le idee Che mi escono dalla testa Sbagliando e non Ti ripeto Questo ormai è vita Non è più un mestiere Capisci Cioè Non è più Una cosa che tu dici Mi alzo la mattina Per andare a guadagnare Il pane Per mangiare Per vivere No Cioè io mi alzo la mattina Per regalare emozioni E ricevere emozioni Cioè è più Qualcosa di più Che va oltre Abbiamo cercato di Prendere Tutto ciò che c'era Di classico E portarlo Ai tempi di oggi Aggiungendo Determinate tecnologie Che prima non c'erano Come per dirti Il sistema di prenotazioni Che abbiamo Di cui abbiamo parlato In pratica Tu Scegli la nostra Il nostro profilo Scrivi il nostro profilo Su Facebook Instagram Google Scrivi Barberia Grazioso E Ci sono dei pulsanti Che ti consentono Di andare A visitare il nostro sito Dove è possibile Cliccare un pulsante Che Dice Prenota ora E trovare L'operatore Che tu preferisci E L'orario L'orario con il servizio Che tu preferisci Di conseguenza Dopo una prenotazione Effettuata Ti arriverà Un'email Che ti confermerà L'orario in cui è stato Prenotato Il servizio E con chi E questo è stato Una cosa molto importante Perché ci permette Di lavorare In maniera Tranquilla E Ordinata Soprattutto Ho iniziato Da un po' Ad insegnare Perché Ci sono state Delle persone Che hanno Ritenuto Che io Fossi la persona Adatta A trasmettergli Qualcosa E quando Questo è avvenuto È stata per me Una gioia Immensa Perché È fatto D'emozioni Questo mestiere Quindi Quando vedi Che qualcuno Ti ritiene Realmente Capace Di potergli Trasferire qualcosa Ti gratifica In maniera Molto Importante A settembre Ad una Competizione Nazionale A Roma Dove Su Più di 200 persone Ho Ottenuto Il primo Premio Miglior Taglio Della competizione Devo dire Che è stata Una cosa Molto Cioè Innanzitutto Inaspettata Ed è stata Una bella Soddisfazione Soprattutto Poi Nel Dice Nel dire Che Vengo Da un piccolo Paesino Ero Tra i più Giovani Ed è stata Davvero Una bella Soddisfazione Ovviamente Senza Montarsi Mai la testa Perché Non Un titolo Non significa Che io sia Meglio di Qualcun altro Sicuramente Che Soprattutto Grazie a tutti.